E' stata inaugurata a Crotone la sede regionale del patronato Impas Confsal, un punto di riferimento essenziale per l'assistenza sociale e previdenziale in Calabria. Alla cerimonia erano presenti il direttore regionale Pietro De Tursi e Peppino Falvo, consigliere nazionale Confsal. Entrambi hanno sottolineato il ruolo cruciale che questa sede svolgerà per la comunità. Presenti anche il sindaco di Crotone Vincenzo Voce e il deputato Domenico Furgiuele, a testimonianza dell'attenzione delle istituzioni per questo nuovo servizio, unitamente ai referenti provinciali del patronato. Tutti nel corso dei loro interventi hanno sottolineato il ruolo cruciale che questa sede svolgerà per la comunità. E' molto importante aprire la sede regionale del patronato Impas e Caffè Confsal di emanazione sindacale della Confsal che rappresenta in questo momento in qualità di consigliere nazionale in una città come Crotone, una città che ha bisogno di servizi, ha bisogno di assistenza. Abbiamo un grande direttore regionale che è Pietro De Tursi. I bisogni sono tanti. Partiamo dalla semplice domanda di maternità fino alla desoccupazione, dalla domanda di invalidità alla segno ordinario di invalidità, dalla pensione di vecchiaia anticipata per salute alla pensione di inabilità, di reversibilità. Tutto quello che il cittadino ha bisogno, qua può trovare una risposta, può trovare una consulenza per la famiglia, per le imprese e per tutti. Ad accettare questa sfida con grande determinazione è Pietro De Tursi, direttore regionale del patronato Impas Confsal. A noi patronati in genere ci si rivolge il 90% della povera gente, dei disastrati, dei casi disperati, perché il professionista non ha bisogno del patronato, né tantomeno del CAF, perché alla fine ha i suoi canali, vari commercialisti, avvocati che li seguono tutti. Da noi vengono centinaia e centinaia veramente di poveri, di povera gente, gli ultimi, veramente gli ultimi e dove quotidianamente cerchiamo di dare assistenza a 360 gradi su tutto. Ovviamente non abbiamo la bacchetta magica, questo nessuno di noi riesce in toto. Cerchiamo di ascoltare, perché già ascoltare la povera gente oggi è una grande dote che non tutti hanno. Il patronato Impas offrirà una vasta gamma di servizi, dal supporto sociale a quello previdenziale e fiscale. La nuova sede regionale del patronato rappresenta una risorsa essenziale per il territorio crotonese, pronta a rispondere ai bisogni della comunità e a fornire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.